Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Questo è lo spazio riservato a come imparare delle canzoni facili da suonare al pianoporte. Oggi vediamo un brano bellissimo del duo A Great Big World con Cristina Agliera e Say Something. Cantare in Libertà Dunque, questa canzone comincia con un accordo di Si minore che è questo accordo qua. Questo è il Do dove ci sono i due tasti neri, a sinistra c'è il Do. Quindi subito prima c'è il Si e il Si minore si suonerà Si, Re, Fa diesis in questo modo, 1, 2, 4, il numero delle dita che sappiamo essere 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi Il secondo accordo è Sol maggiore Quindi Sol, Si, Re, questo forma il So maggiore suonato 1, 3, 5. Poi c'è il Re, Re, Fa diesis, La e infine il La maggiore, La, Do diesis, Mi. E così va avanti Due battute per ogni accordo Poi invece nel ritornello gli accordi sono questi Re maggiore Allora vediamo che questo è un accordo che forse non abbiamo mai trovato ed è Fa diesis minore Si suona, questo è il Fa, Fa diesis, La e Do diesis Quindi suonando insieme Fa diesis, La, Do diesis Abbiamo il Fa diesis minore Vi consiglio quando suonate un accordo tipo Fa diesis Di avanzare un attimo con la mano Altrimenti sarebbe scomodo da suonare Quindi se voi avanzate, entrate un po' nei tasti Vedrete che è molto più semplice raggiungere questa posizione Poi andando avanti Sol L'ultimo accordo si divide in due Cioè Re due volte E La due volte Entrambi gli accordi maggiori Quindi ricapitolando il ritornello sarà così E poi andando avanti 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 Poi si ritorna E così continua per tutta la canzone Eccetera eccetera Come abbiamo visto anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte Io vi lascio in descrizione il link per trovare il testo con gli accordi E inoltre la diteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra Oltre a dei link su come suonare gli accordi al pianoforte Di puntate sempre del mio canale Cantare Libertà Buon divertimento Grazie a tutti